bene amici di hd blog siamo volati a pechino per la presentazione meizu dell mx4 o pro il nuovo top di gamma della casa cinese dopo appena poche ore dalla conclusione dell'evento possiamo già presentarvi il nostro unboxing ecco la scatola destinata alla stampa ci hanno detto che è simile a meno delle cuffie rispetto a quella che sarà venduta ci dicono in europa da metà gennaio ma apriamo subito la scatola sul lato sinistro possiamo notare il caricabatterie con attacco spinotto europeo possiamo notare il libretto di istruzioni invece sulla destra vengono presentate le principali caratteristiche del terminale in inglese sul lato destro è appoggiato il nostro mx4 pro tenete a bada la vostra curiosità fra un pochino lo vediamo nel dettaglio come vi dicevo il segnaposto per le cuffie non presenti nella nostra confezione ma ce la siamo ce le siamo fatte dare eccole le metto a favore di camera e poi sul lato destro invece abbiamo il cavo usb micro usb come vedete partendo dalla parte bassa abbiamo lo speaker mono abbiamo l'attacco usb abbiamo il microfono nella parte alta abbiamo il tasto accensione e spegnimento che premerei anche per guadagnare tempo abbiamo il secondo microfono e abbiamo il jack da 3,5 pollici lato destro pulito lato sinistro il bilanciere del volume in basso possiamo rimuovere la nostra back cover in questo modo back cover in policarbonato con finitura in alluminio nella parte alta troviamo la micro sim fotocamera da 20 mega 20.7 megapixel eximor flash dual tone dual led batteria non rimuovibile da 3350 mille abbiamo 72 mm per 150,1 mm per 9 mm di spessore con un peso ben bilanciato di 158 grammi appena 11 grammi in più rispetto alla mx4 standard vediamo perché durante la presentazione si è definito questo modello pro iniziamo con lo schermo lo schermo è 2k plus così viene definito nella nella presentazione dei nostri amici di meizu la risoluzione è 2560 per 1536 e il plus che viene aggiunto al 2k è proprio sull'ultima delle dimensioni rispetto allo standard di 1440 i ppi sono 546 per questo schermo davvero o notevoli in meizu sono sicuri che questo schermo grazie alle ottimizzazioni effettuate dai loro ingegneri possa consumare appena un 5 per cento in più rispetto alla versione standard interessante la tecnologia dello schermo che dico subito essere prodotto dal consorzio japan display incorporation è la cosiddetta nega negative lcd una particolare tecnologia messa a punto in co patent quindi in co branding fra meizu e jdi per risparmiare il più possibile con l'uso di particolari sensori la batteria il vicepresidente di meizu ha detto durante la presentazione che l'azienda si è voluta focalizzare soprattutto sulla luminosità e vi assicuro che è davvero davvero alta loro dichiarano 450 nits ma io sono sicuro che quando farò dei test più approfonditi sullo schermo di avere una risoluzione ben più una luminosità ben più alta di quella che loro hanno dichiarato un contrasto 1 a 1500 contrasto davvero buono copertura dello schermo gorilla glass 3 portato una paletta colori così incominciamo subito a vedere la nostra risoluzione come rende ho portato il classico test color check così potete vedere i singoli colori beh vedo soprattutto un rosso molto molto sparato un nero buono un azzurrino forse fuori scala per provare a comparare la questo tipo di risoluzione provo a farvi vedere la stessa cosa sul note 4 che ho portato per poter comparare questi questi dati ecco vi mostro a fianco il note 4 mettiamoli tutti e due in verticale anche note 4 uno schermo 2k potete vedere come più brillante sono tutti e due al massimo della luminosità come più brillante il bianco del mx 4 pro ma come i suoi grigi tendono di più al all'azzurrino la differenza importante anche nel colore nel colore rosso o l'angolo di visuale dello dello schermo è davvero davvero molto buono guardate devo dire che sotto questo aspetto gli ingegneri mezzo hanno fatto un ottimo lavoro il processore è un exynos della samsung 54 5430 con 4 core a 15 4 core a 7 in mezzo dicono di aver fatto un overclock di questo processore portando i 4 core a 15 a 2 gigahertz e 4 core a 7 a 1,5 gigahertz la gpu e la mali 7 t 628 o samsung ha fatto un ottimo lavoro giocando sulla dimensione dei transistor grazie infatti alle nuove tecniche litografiche ha potuto ridurre il processo da 28 nanometri a 20 nanometri proviamo a vedere come si comporta questo processore nel test antutu e vi dico subito che ho fatto varie prove e sono arrivato a questo punteggio medio 45707 che è un ottimo punteggio considerando la risoluzione alla quale viaggia questo terminale durante l'uso non si notano impuntamenti lag di sorta devo dire che il terminale è molto veloce in mezzo hanno tenuto a precisare che la rom vediamo subito è la 4.1 versione internazionale e basata su android 4.4.4 ma ci hanno detto che è da considerarsi una versione alfa molte cose non sono state messe a punto e quindi hanno pregato la stampa internazionale di dire queste cose e di avere un occhio benevolo per qualche lag che si potessero presentare ma vi dico la verità io questi lag non li ho visti giocando nel menu impostazioni la prima differenza rispetto alla mx4 standard la notate nell'opzione sviluppatore finalmente hanno voluto sfruttare la runtime quindi qui è possibile selezionare la dalvik o la arte abbiamo il menu completo sviluppatore non come la mx4 normale un menu castrato quindi tutte le opzioni standard di durante la presentazione ci si è lungamente dilungati sul nuovo sensore di impronte digitali noi per guadagnare tempo abbiamo registrato la nostra impronta e per farvi vedere subito come è veloce la procedura di sblocco in sede di presentazione Meizu ha detto di aver cercato un'azienda la Godix cinese che presentasse un sensore di impronte dello stesso livello di quello presente nell'iPhone 6 Plus dobbiamo dire che il riconoscimento è veramente istantaneo e vicino al mezzo secondo da loro dichiarato questo sensore è protetto da un vetro zaffiro e consente un riconoscimento dell'impronta a 360 gradi ed è possibile registrare fino a cinque impronte differenti il menu ve lo mostro subito di configurazione la procedura è veramente semplice il menu è questo è possibile utilizzare l'impronta per ogni singola cosa dal lock screen alla possibilità di accedere alle notifiche o alle utilizzazioni o ai pagamenti sono state inserite quindi rimaniamo sul menu impostazione alcune funzioni davvero smart la prima che è stata presentata è la possibilità di utilizzare e di creare da sé nuovi sfondi vi faccio subito vedere ieri ho fatto delle foto per testare la fotocamera durante il launch offerto da Meizu e immaginate di poter utilizzare questa foto per la nostra lock screen clicchiamo su imposta e premiamo set smartly a questo punto vedrete che in automatico la nostra lock screen avrà lo sfondo simile a questa foto mentre nella home screen verrà clonata la tonalità per non dare lo stacco cromatico beh ha fatto guardate ha ripreso i colori della nostra foto avete visto lo sblocco anche questo istantaneo la presentazione si è soffermata anche sul nuovo comparto audio dello smartphone nuovo comparto audio potenziato da un dac ls 90 18 devo dire un dac molto comune progettato dalla sobere azienda affidabilissima accompagnato da un amplificatore opa 1612 anche qui Meizu dice di aver depositato due brevetti soprattutto un nuovo filtro a due canali che consente di non avere disturbi dei segnali elettrici nel suono questo dovrebbe migliorare ha detto degli ingegneri Meizu ieri sera ho potuto ragionare e conversare con uno di loro consente di migliorare dicevo il cosiddetto cross talk l'impostazione con cui può essere gestita questo nuovo dac è questo menù come vedete alcuni menù sono ancora in inglese Meizu diceva che ha compreso e ha letto diversi forum e diverse lamentele di utenti internazionali e prima dell'uscita sul mercato prevista intorno alla metà di gennaio del 2015 di questo modello ottimizerà la traduzione in italiano e tutti i menù verranno resi in italiano beh in questo menù come vedete è possibile settare la potenza d'uscita delle cuffie in mezzo dichiarano di voler e di aver raggiunto il vivo xplay 3s come impedenza quindi è possibile pilotare con questo smartphone anche cuffie con impedenza superiore ai 600 ohm io ho utilizzato delle cuffie che avevo portato qui e devo dirvi che il suono in cuffia è realmente molto molto buono quindi sono curioso di poter poi procedere ai miei test che cosa vi volevo far sentire questo è l'audio come vedete il suono è molto pulito e devo dire anche molto forte così come tutto il sistema delle notifiche fluidità vi dicevo importante real racing 3 installato nonostante i firewall cinesi sentite sentite l'audio molto buono aspettiamo che il gioco si si carichi così vediamo come la gpu gestisce intanto vi mostro gli angoli di visuale beh mi sembra davvero davvero molto buono l'audio come sentite è forte ci sono nuvola veramente mi sembra tutto molto buono beh buona pulita diciamo nessun lag qualcosina sulla fotocamera beh è la nostra è la fotocamera della mx 4 standard ieri sera ho fatto alcune foto e ho notato e guardate queste immagini e ho notato come in mezzo abbiano lavorato sul processo di messa a fuoco è secondo me più rapido rispetto alla messa a fuoco della mx normale il mezzo dichiarano di aver lavorato sulla fotocamera posteriore sui due sensori che comandano il flash dual tone in particolare c'è un nuovo sistema di bilanciamento del flash utile soprattutto in notturna purtroppo non è stato inserito anche nella versione pro lo stabilizzatore ottico di immagini il vice presidente mezzo ha insistito dicendo che il loro stabilizzatore quello di tipo software è bastevole quindi non vedeva il motivo per aumentare i costi di produzione quindi di vendita del terminale si è invece lavorato molto sulla fotocamera anteriore che è passata a 5 megapixel consente di effettuare dei selfie a grand'angolo con un nuovo gestore anche qui software il processore l'ov 5693 è pilotato per tener conto del grand'angolo da 84.4 gradi con una nuova modalità viso che consente di ottimizzare il colore della pelle lo slogan coniato è stato selfie davvero perfetti beh credo che per questo veloce unboxing possa bastare da pechino per hd blog raimondo martiri grazie 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 grazie